Questo è l'unico. ultimo inchiostro che ricadrà su questo mio diario. Tra qualche minuto non ne avrò più bisogno. Sarò finalmente un tutt'uno con l'abisso. Ho vissuto giorni di agonia, rinchiuso nella mia tana, incarcerato da quella bufera terribile, con i suoi fiocchi ugualmente insignificanti che hanno sconquassato il mio animo. Ora finalmente sono tornato dall'abisso, per mai più volgergli le spalla. Il nulla è l'unica pulsazione di vita che sintoni con me, l'unico amico che io possa avere. È il momento di staccarmi da questo monte. È giunto l'attimo per me di abbracciare il mio baratro. Non mi bastano più le gambe che pensano nel vuoto, né di stendervi le braccia, né piegarvi la testa. È giunta l'ora per Rosso di diventare davvero se stesso, di volare nel nulla e di essere gli stesso e questa volta davvero l'abisso. è giunta l'ora per me di abbandonare ciò che include timore e indifferenza ed unirmi che mi annulla. Potrei chiamarla morta. Io la chiamo rinascita. Rivoglio il nulla di chi non è mai nato. Voglio l'abisso. E voglio me stessa. Rosso vola e non farà mai più ritorno. Mai.